Pronto? Pronto? Si sente? Sì? Va bene? Sì? Bene, un saluto a tutti, cordiale, benvenuti, e come sempre accolti dalla parola del Signore. Già lo dicevo sabato, è un po' la scelta di interrompere momentaneamente l'ascolto delle parabole di Gesù, perché termina un anno liturgico. Vedete già che ci sono i segnali che dicono l'inizio dell'Avvento, oramai con la prossima domenica, e io credo che questo sia, mi sono fatto aiutare perché non scelgo parole mie, ma ascolto con voi la parola che viene dal Signore, mi sono fatto aiutare dalla liturgia di queste ultime due domeniche, per questo abbiamo un foglietto diverso che è quello che ha le letture della Messa. Ma credo davvero che questo sia un passo importante. Noi magari ci aiutiamo, ed è una cosa molto bella, a entrare nel tempo liturgico, ma dopo è anche importante chiedersi ma io come ne esco? E siccome adesso sta terminando l'anno liturgico, come ne usciamo? E allora mi accorgo che una domanda così dà una chiave di lettura anche delle parole che il Signore ha preparato per noi per domenica. E allora siccome il nostro è un intento semplice per noi che siamo qua, per i tanti che poi ascolteranno, per noi questo è un momento prezioso perché in tanti modi mi dite che ci fate conto. E allora anche per me diventa proprio un impegno che aiuta me, ma che aiuta ciascuno di voi a dire che tappa ci chiede di vivere il Signore in questo momento. Che cosa vuol dire terminare un anno liturgico con la festa di Cristo Re? Tanto più che, grazie a Dio, la forza dell'anno liturgico è di essere proprio una scuola della fede. Era nato così, lo dicevo, è nato proprio per accompagnare i cammini di chi voleva entrare, far parte della comunità dei discepoli e poi mettersi dentro la storia, la storia della vita, la storia del mondo. E allora questo mi sembra davvero un'angolatura particolarmente importante. Soprattutto c'è, ed è la cosa che mi ha proprio colpito, per questo ho fatto questa scelta, che cosa vuol dire terminare un anno liturgico con il Vangelo di Cristo che muore in croce, con due ladroni accanto. Ma che senso ha tutto questo? Io penso che qui ci sia qualcosa di profondo e di autentico. E allora ci aiutiamo nella nostra forma molto semplice, come sempre, ma però ci aiutiamo in un ascolto. Qualcuno è anche nuovo stamattina e allora come vorrei davvero che si trovasse a casa, come un ascolto di una parola che ci è diventata una parola amica. Allora, piccolo cenno ai tre testi che però, letti su questa lunghezza d'onda, dicono ancora molto di più di quanto già di bello dicono quando noi li ascoltiamo. A partire dal testo del profeta di Isaia, dove parla della sua vocazione fin dal seno materno, lui mi ha chiamato e la mia è diventata una parola che doveva e vuole giungere a tanti, perché è parola che viene dal Signore. Ma appunto questo cheppure sarebbe una pienezza di senso per la vita di un profeta che è chiamato da Dio, ad un certo punto dice nella parte finale del foglietto «Ora ha parlato il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele». E ha detto ecco, questa è la parola davvero grande, in attesa. è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Ti renderò luce delle nazioni. Ma Isaia ha sperimentato la povertà anche della sua predicazione. Ha incontrato il rifiuto, ha incontrato le tante forme della lontananza e della disattenzione e dice «È troppo poco, è troppo poco. Io ti farò luce delle nazioni». Forse questo è il segno di un preludio, di qualcosa che sarebbe accaduto dopo. dove anche la voce di un uomo povero e semplice diventa una luce che è per tutte le nazioni. E questo mi sembra davvero un ingresso nell'ascolto della parola del Signore realmente profondo e autentico. Tant'è che il Vangelo è proprio è proprio quello dell'ultimo momento, il momento trepido e drammatico con cui si conclude la vita di Gesù e si conclude nella forma che più perdente di così non avrebbe potuto essere con due ladroni condannati alla stessa pena ma per ragioni molto diverse rispetto ad uno che invece era innocente proprio in uno scenario così proprio mentre sta vinendo tutta la sua esperienza di vita e sta riconsignando se stesso al padre che lo aveva mandato proprio lì trova ancora la forza di una parola e di uno sguardo che non avremmo più dimenticato con un uomo accanto mentre l'altro fa dell'ironia e dice ma tu che sei il re ma perché l'altro invece Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo regno notate lo chiama per nome nei Vangeli non è mai chiamato direttamente per nome Gesù solo un ladrone anonimo nel momento più drammatico della sua vita nell'imminenza della morte in quella forma di crocifisso lui dice Gesù ricordati di me e l'ultima parola di Gesù è davvero oggi sarai con me nel mio regno vuol dire che anche nell'ultimo momento anche in questa forma e in questa modalità tragica e drammatica assolutamente inimmaginabile lui riesce a dire una parola che è di futuro e di speranza una parola avanti avanti grazie una parola che dice una sovrabbondanza di amore una sovrabbondanza di amore questa è l'autorevolezza dell'amore è per questa ragione solo per questa ragione che uno così si può dichiarare re ma non per il prestigio non per la potenza non per l'autorità in cui entra ma perché è autorevole nell'amare è autorevole nell'accogliere è autorevole questo è Cristo re dell'universo questo e questa è una parola davvero incredibile che mai avremmo osato pensare e neanche immaginare in un momento dove la vita arriva ad un punto conclusivo per di più penoso umiliante e drammatico proprio in un momento così lui regala ancora una parola di salvezza allora ti vengono in mente le parole dette al profeta è troppo poco che tu faccia questo tu sei luce delle nazioni e adesso la luce si accende sulla croce di un uomo che muore così si accende lì noi lo celebriamo re dell'universo ma qui è totalmente travolta ed è totalmente ritrascritta la modalità di essere re noi lo pensiamo con il prestigio con l'autorità con la forza con il potere e questo è un uomo che più povero di così non avrebbe potuto essere ma nessuno gli ha tolto la gioia di poter dire morendo oggi sarai con me nel tuo regno a un uomo malfattore i due malfattori dice il Vangelo un uomo così si sente dire oggi sarai anche tu nel mio regno questo è il Signore al termine della sua vita prima dell'avvenimento che avrebbe di nuovo rimesso tutto in cammino con la resurrezione d'amore ma questo snodo lui lo chiama io sono il re a Pilato lo dice ma tu sei re tu l'hai detto ed era uno messo alla prova demigrato da tutti da tutti il riso è mandato a morte e a quella morte ecco davvero vuol dire tanto da questo ho tratto lo spunto per dire no oggi è proprio bello dedicare il sabato a questo ascolto ultimo dell'ultima tappa di un anno liturgico perché che cosa vuol dire allora aver fatto la scelta di seguire e di diventare i discepoli di uno così che cosa vuol dire per noi che cosa vuol dire un anno liturgico che termina in questo momento ma chi allora dovrei essere io chi dovremmo essere noi se scegliamo di fare i discepoli di uno che persino al momento ignominioso e umiliante di una morte impensabile giunge a fivere e ad esprimere un'ultima estrema ma gioiosa consapevolezza di futuro oggi tu sarai con me ed era uno sulla croce accanto a lui insieme ad un altro che invece lo aveva ampiamente deriso ma questo è il regalo di un anno liturgico ed è un regalo impegnativo perché decidere di fare tappa dopo tappa un cammino di sequela nei confronti di uno che muore così vuol dire che tu pensi la tua vita non come un successo continuo non come una galleria di trionfi e di vittorie ma tu pensi la vita con la logica che solo l'amore è il gesto ed è il valore più autorevole lui è re per l'autorevolezza del suo amore e del suo amore per tutti e questo a me sembra davvero una provocazione forte è quella per la quale mi sono detto anch'io ma mettendovi un poco anche nel posto vostro ma questo è proprio importante ascoltarlo e dirselo mentre finiamo un anno liturgico ma chi abbiamo seguito e chi se domenica cominciamo l'avvento vorremmo davvero scegliere di seguire e di farcene discepoli ma chi è il chi è lui è lui fotografato dal Vangelo in quel momento che più drammatico di così e più simbolicamente eloquente di questo non avrebbe potuto essere ecco questa a me sembra davvero una cosa proprio importante ma allora ci stai dicendo Signore che è solo in un crescendo vero di amore di dedizione di servizio che noi seguiamo Te è questa l'esperienza di vita cristiana cui siamo chiamati questa è una domanda che da sé sola si commenta per la sua bellezza e per la sua importanza esattamente proprio per essere segni di un amore così siamo poveri non riusciremo mai a dirlo in questa forma adeguata ma fare il cammino del tempo anno dopo anno con il cuore il Vangelo vuol dire una tensione spirituale di questo livello e su questo punto non facciamoci sconti rimaniamo tutti dei poveri che dicono ma io però riesco a fare proprio poco però non facciamoci sconti la sequela del Signore è la sequela di uno che morendo e morendo così regala un futuro ad un malfattore che gli era accanto questo a me sembra davvero da sé solo il sigillo più significativo di che cosa voglia dire chiudere un anno liturgico e scegliere di cominciarne un altro questo non è un cambiamento di colori e neanche di canti è una continuità profonda di vita questo è questo è e allora com'è importante davvero riconoscere che quella regalità lì quella del Signore la regalità di nostro Signore Gesù Cristo Re dell'universo è questa umile e perdente è questa incredibile e ignominiosa e allora e allora è bello riandare un poco ai nostri cammini ed è bello anche sognare e immaginare i nostri futuri cammini e qui siamo ad una transizione perché nella misura in cui ci siamo messi davvero a tentare di divenire discepoli del Signore non è più primo gennaio 31 dicembre il riferimento simbolico è da avvento ad avvento è alla Pasqua che è al centro di questo itinerario ora a me sembra che poi quest'anno una riflessione così quindi anche una meditazione come questa di fatto sia particolarmente importante perché se c'è stato un anno incredibilmente difficile e ancora non ne siamo del tutto fuori è stato esattamente questo allora sentirci dire stamattina mentre siamo in ascolto e in preghiera sentirci dire parole come queste credo davvero che ci possa fare proprio molto bene molto bene noi abbiamo provato tutti che cos'è la paura che cos'è la solitudine che cos'è la molteplicità degli impedimenti che proibiscono le cose più amate più care addirittura i rapporti i gesti di affetto l'attenzione la vicinanza la presa a carico e dopo un anno e mezzo così noi stamattina siamo a sentire e ad avere lo sguardo su uno che si proclama re perché fino in fondo ha scelto di amare e di amare tutti fratelli tutti tutti e questo dice la serietà della chiamata ad essere discepoli del Signore noi non abbiamo etichette non abbiamo connotazioni che distinguono ma se dentro nel cuore abbiamo davvero il desiderio di diventare discepoli del Signore e di camminare così nella vita ma noi siamo su di una strada importante e non solo per noi e per il nostro futuro ma anche per gli altri per tutti gli altri dopo poveri restiamo tutti inadeguati lo siamo ma nel cuore scegliamo che il Vangelo non si spenga rimanga una parola che davvero continua ad interpellarci continua ad essere fiamma per un fuoco che quindi continua ad ardere è stato un anno difficile certo però anche questo come è stato ed è lo riconosco un dono grande di questo momento duro dove tutti siamo messi alla prova di chi mi dice però sai Don Franco io qualche cosa ho anche imparato meglio e qualche cosa non di marginale ma qualche cosa di importante anche in un anno così è accaduto qualcosa di importante nel mio cammino di fede e quando sento parole così con poi lo sguardo con cui mi sono dette e poi dal racconto che mi dice la ragione di questa frase io dico come è vero davvero che questa chiamata a diventare discepoli può diventare una cosa sorgiva per la vita sorgiva ti mette nell'animo un desiderio una dimensione di accoglienza una intensità di farti carico e di voler bene davvero straordinaria e di questo dopo come facciamo a non essere grati è una cosa troppo bella troppo vera troppo autenti e questo a me sembra veramente qualcosa di prezioso abbiamo percorso mesi difficilissimi ma perché non riusciamo arrabbiati e perché non riusciamo inariditi e io penso di dire una cosa vera in questo momento che non siamo e non vorremmo essere né inariditi né tantomeno arrabbiati ma vorremmo semplicemente essere gente che ha capito ancora di più la profondità e la bellezza del Vangelo e allora domenica ricominciamolo l'anno liturgico ricominciamolo perché non vogliamo cambiare maestro non abbiamo intenzione di andare in un'altra scuola anche se questo può accadere nei posti di lavoro non accade però dentro la vita dentro la vita si può anche dire io continuo ad andare a questa scuola e continuo a farmi aiutare da un maestro così è la meditazione di oggi semplice perché non ho inventato niente ho sempre un po' il timore di impoverire un dono che però nella parola che abbiamo visto e che celebreremo domenica è più bello di quanto io riesca a dire ma però però dici però queste sono parole che danno vita parole che aprono orizzonti parole che incoraggiano sentieri e percorsi di vita parole che purificano il cuore davvero che lo rendono cuore cioè capace di servire e di amare e questo che cosa può essere di più bello per una vita e allora uno sceglie di non rinunciare non esce dal sentiero sta percorre questa strada bene un'ultima cosetta che finita la meditazione ma si riferisce piuttosto al piccolo avviso che avete che avete visto entrando la meditazione di sabato ci aiuterà da un cristiano passoni che è persona amica proprio per farlo come momento alle dieci e poi alle dieci e mezzo della domenica anch'io celebrerò per chi può evidentemente per chi ha la possibilità anche l'eucaristia dell'inizio di avvento c'era sul sito e c'è sul cartello anche la possibilità per chi volesse e ne avesse davvero anche le condizioni di fermarsi anche a pranzo e quindi di prolungare un po' la giornata anche con uno stacco ecco non possiamo fare invece l'ospitalità perché perché la prossima settimana degli esercizi e quindi il prossimo weekend va sanificata tutta la casa quindi anche per questa ragione ma però nulla ci porta via l'inizio di un avvento e di un avvento fatto anche dopo la meditazione di stamattina dove ci siamo dati una mano per dire cosa vuol dire fare e vivere un anno liturgico perché scegliamo di diventare progressivamente davvero discepoli del Signore buon cammino e grazie a tutti allora facciamo come al solito una decina di minuti di silenzio e di preghiera e poi per chi può e chi può rimanere anche un po' un piccolo momento di condivisione nella fede perché diventa la maniera con la quale ci aiutiamo gli uni gli altri mettiamo in atto qualcosa che abbiamo insieme ricevuto dal Signore grazie grazie a tutti